Aveva voluto essere sepolto nella sua Raldon accanto ai sacerdoti di questa comunità sud di Verona dove la sua vocazione era sbocciata, si era irrobustita, fino a diventare uno splendido frutto. A dieci anni dalla sua morte, Monsignor Bernardo Antonini è ancora vivo nel cuore e nella mente di molte persone qui, nella diocesi di Verona, come nelle terre lontane di San Pietroburgo, di Mosca, di Astana, la capitale cazzaca. Diciamo che la vocazione di Don Bernardo è nata qui, Raldon? Sì, è nata proprio qua a Raldon perché Bernardo è arrivato a Raldon all'età di sei anni quindi anche la sua vocazione sacerdotale diciamo che è nata qua a Raldon con Don Massimino che era il parroco che ricordiamo qua a Raldon con tanto affetto, è nata proprio qua la sua vocazione. E qua a Raldon diciamo ha celebrato anche la prima messa nel 1955 e in occasione della prima messa mio papà ha costruito un bel capitello grande vicino alla nostra casa colonica capitello che è meta anche tutt'oggi di diversi pellegrinaggi da parte di russi, polacchi e gente che lo conoscono. Eravamo un gruppo di amici che aiutavano Don Bernardo e proprio così quasi dispersi ci siamo detti che cosa possiamo fare? Fondiamo un'associazione senza nessun progetto siamo andati avanti momento per momento nel ricordo di Don Bernardo e proprio questo ricordo è quello che ci ha sostenuto. Allora io vedo che anche adesso nell'associazione c'è questa fede nella provvidenza poi c'è questa apertura alle relazioni, quello che lui amava amiamo anche noi e ci siamo impegnati a portare avanti la memoria e le opere di Don Bernardo in Russia e in Kazakistan e abbiamo visto proprio come siamo stati un tramite di chiesa per quelle due chiese così lontane. Accanto alla tomba di Don Bernardo parenti ed amici dell'associazione che porta il suo nome hanno messo un quadernetto dove chi viene qui in preghiera può lasciare un pensiero, un'intenzione particolare. Tra queste spiccano quelle vergate in cirillico lasciate dai figli spirituali di Monsignor Antonini ieri giovani seminaristi, oggi preti. Vengono da lontano ma anche i vicini se lo ricordano, anche i bambini come tanti che hanno lasciato scritte, messaggi su questo quaderno che avete messo qui accanto. E' vero, diciamo che è quasi una sorpresa anche per me, perché in fondo io sono suo fratello, quindi diciamo ci sono 16 anni di differenza tra me e lui, però alla fine rimane sempre mio fratello e diciamo che l'affetto che hanno i paesani di Raldon nei confronti di mio fratello è immenso. Allora io poi ho avuto la fortuna di mettere in ordine, di raccogliere tutte le cose di Don Bernardo del suo studio, perché sono nella commissione storica e direi che io ho colto l'anima di Don Bernardo, la parte più bella, quella che io non conoscevo e sento che oggi vivo una relazione con lui, ma la vera relazione, proprio perché ho colto l'interiorità, ho colto quello che lui era, ho colto il suo amore per Dio, ho colto il suo amore per i fratelli.